ciao ciao a tutti benvenuti o bentornati in questo nuovo video ASMR oggi vi porto un video di Monsaus un po' di suoni con la bocca e con le mani faccio un mix spero 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 tanto che questo video vi piaccia vi ricordo che se non siete iscritti ancora al mio canale di iscrivervi, di lasciare tante mi piace se mi è piaciuto il video di condividerlo e di continuare a seguirmi iniziamo subito con i suoni fa un canto pazzesco sto suonando a tutti a tutti a tutti e a tutti Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì, sì Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Buona notte. I sogni, i sogni, i sogni, i sogni, i sogni, i sogni, i sogni. no 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Ticca 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. 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 sapete crada notte, 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 notte notte, 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 not Sì, è vero. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 buono 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 buonanotte 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 sogni, 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 sogni.. Buonanotte, buonanotte 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 sogni 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 d'oro sogni 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 Grazie. 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 Fai sogni, 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 sogni d'oro. Buonanotte. Buonanotte. Ciao, ciao, ciao... ciao 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 benvenuti in questo video di Mozzles a tutti i nostri spettatori 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 i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori a tutti a tutti a tutti i nostri spettatori a tutti a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori a tutti a tutti i nostri spettatori a tutti a tutti a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori a tutti a tutti i nostri spettatori sogni sogni a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori a tutti a tutti a tutti i nostri spettatori 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 Grazie a tutti. 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 Buonanotte. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonanotte. 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 trutola 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 trotola turo 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 turutola 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 terza parola kuruta Unico kuruta 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 kuruto kuruta corto corto circoito corto circoito corto circoito corto circoito corto circoito corto corto circoito 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 corto, cercoito corto, cercoito corto, cercoito corto, cercoito corto, 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 corto 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 terzo non scusate quarta parola brutolo 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 Prontolo 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 Pruito quinto bruna cioccolato 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 cioccolati cioccolato 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 clic 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 máquina clic 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 ultima parola sussurando 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 buonanotte a tutti vai 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 tanti tanti sogni d'oro buonanotte Buonanotte